Eccoci a Punta Caravina siamo a 1847 metri sopra il livello del mare e abbiamo fatto le creste praticamente dal Redentore sino qua dove si passa per il punto più alto del Guglielmo ed ora scendiamo per le 13 piante quindi torniamo a zone spettacolo temperatura perfetta finalmente il tempo sembra concedersi ad una situazione favorevole a noi e proseguiamo davanti a noi abbiamo la Valcamonica, le Alpi e tutta la bellezza della nostra terra ovviamente sempre con la Pia Rover Volt a dopo ciao